Ciao amici, bentrovati da Andrea Giamaro. Eccomi qua, gli occhiari non si vedo più tanto bene da lontano, non voglio fare il professorino. Allora mi fanno, ma gommo, ma perché non ti pitturi un po' i capelli, la barba? Perché il mio aspetto descrive perfettamente il mio stato d'animo. E' stanco, vecchio, appesantito e affaticato. E quindi c'è una corrispondenza tra dentro e fuori. Ma sempre non c'entra niente, invece c'entra, perché il film di cui volevo parlarvi oggi è Old. Era un film che io volevo andare a vedere al cinema, ma non sono riuscito tra un impegno e quell'altro. E per fortuna adesso è uscito in piattaforma, lo trovo su Amazon Prime, e me lo sono visto volentierissimo. Old di Shyamalan, o come cavolo si pronuncia, Shyamalan, va bene? M. Night Shyamalan, stesso regista del Sesto Senso, quando fu un grandissimo botto il Sesto Senso. Lo andai a vedere con mia moglie, infatti oggi parliamo sia di Old, ma anche dello spoilerare. Allora, prima di tutto sapete che io non faccio recensioni, non mi piace raccontare la storia dei film, anche perché lo trovo assolutamente inutile. Se uno lo vuole vedere, se lo va a vedere. E non c'è bisogno che sta facciozza qua gli dica che cosa succede. Mi piace però ragionare un po' sugli stimoli che mi danno i film. E Old mi sapeva una gran figata. La poetica di Shyamalan la riconosco in tutti i film che ha fatto, si vede che è sempre il suo, il film. Soltanto che a volte mi piace, a volte no, ma Shyamalan io lo metto tra i buonissimi, perché secondo me ha fatto dei capolavori. Partiamo dal Sesto Senso, così, giusto per dire. Il Sesto Senso, ovviamente se non avete visto il Sesto Senso o non avete visto Old, non guardate questo video. Il Sesto Senso era quel film dove si scopriva che Bruce Willis era il fantasma che stava dietro al ragazzino, che vede appunto i fantasmi, che vede la gente morta. Shyamalan è un regista molto bravo e secondo me tiene molto anche la forma, molto formale, quindi i film li costruisce molto bene, mi piace come li costruisce. Tant'è che dà sempre tutti gli ingredienti per capirli, i suoi film. E il Sesto Senso, dopo dieci minuti, io mi giro verso mia moglie e le faccio. Sabri, ma io ho capito. Lei si gira e mi fa, ma cosa c'è da capire a dieci minuti dall'inizio? Poi vedo proprio nella sua testa, pam, si accende una lampadina, mi dà una sberla e mi fa, perché me l'hai detto? Perché io non ho detto niente, ho detto solo che ho capito. E lei mi ha detto, eh non dovevi dirmelo, perché adesso ho capito anch'io. Quindi vuol dire che gli elementi c'erano, soltanto che uno distratto non ci fa caso. Fatto sta che il boom forte è stato del film, il colpo di scena, cioè scoprire che lui era già morto. Quel tipo di film sulla carta di solito non mi piacciono. I film basati sul colpo di scena, sui jump scare, quelli lì li trovo veramente noiosi. Ma il sesto senso, guardato con la consapevolezza che lui era già morto, mi è piaciuto lo stesso. Cioè nel senso, c'era quello lì che era un punto, ma non era tutto incentrato su quello. La forma, il modo di narrare, le atmosfere che creava quel film. Uno poteva benissimo sapere che lui era già morto e godersi il film. E così è stato. E non è normale, non è usuale. È molto più difficile trovare una roba del genere. Di solito si basano tutti sull'emozione usegetta. E tant'è che se uno spoiler, che brutto termine, spoiler, ma io ero rimasto che lo spoiler era quello delle auto, però vabbè. Se uno spoiler il twist del film, uno dice, ah mi hai rovinato il film. Se un film si basa solo su quello, non è un gran film. Ecco, Samalayan fa dei film che hanno sempre delle atmosfere. Sempre, no? Fanta Horror, Mistero. Questo è il suo registro, che adoro, tra parentesi. Ma a differenza dei film horror, normali, non si basa tutto sul boom. Si basa sul raccontare un senso d'angoscia. Che su Old è, secondo me, ancora più amplificata questa sua poetica. Perché non c'è il colpo di scena. Cioè, noi vediamo già dal poster, avete in mente il poster di Old? Cioè, le due zampine sul bagnasciuga e praticamente un piede e una mano scheletrici. Cioè, si capisce già. Poi si vede il trailer, si capisce già. Cioè, l'importante del film non è il colpo di scena. L'importante è tutto quello che sta nel mezzo. E Sean Ryan questa cosa la sa raccontare molto bene. Tant'è che mette in scena un film, tratto da una graphic novel, da un fumetto, scritta da un regista, tra parentesi. Mette in piedi un film che secondo me è fantastico. Assolutamente da vedere. Allora, tanto così, tanto per dirvi, è costato 18 milioni. Cioè, 18 milioni. Che un Avenger ci fa il catering con 18 milioni. Questo ne costa 18 milioni. E praticamente quasi a fine pandemia, cioè a luglio del 2022, ne ha guadagnati una novantina. Stiamo parlando di 5 volte tanto. Ha guadagnato 5 volte tanto. Che è una performance rispettosissima, dignitosissima. Anzi, uno dice, vabbè, pochi soldi posso rischiare molto. Molti soldi posso rischiare poco. Shyamalan è uno a cui piace rischiare. Ha una forte poetica. Ha un forte stile riconoscibile. In alcuni momenti è molto formale. Mi ricorda Hitchcock. Anche nella scelta del titolo. Hitchcock voleva, voleva, per esempio, dei titoli di una parola sola. Soprattutto era fissato Psycho, Birds, Vertigo. Cioè, una parola. Qui abbiamo Old. Cioè, proprio figo. Per fortuna l'hanno lasciato Old. Mi piace un casino. È proprio... Old. Allora, praticamente è un film che parla... Parla di un sacco di cose. Ci sono dei personaggi inseriti in questo contesto dove invecchiano velocemente e dal quale non possono scappare. È tutto una sorta di metafora della vita. Ci sono tutti questi personaggi. È difficile non immedesimarsi in qualcuno di questi. Perché comunque quella fase lì l'hai passata. Perché ci sono i bambini che diventano adolescenti, poi diventano adulti. Addirittura, no, c'è quella che da bambina arriva a partorire. Ci sono gli adulti in crisi. Ci sono i dottori. Ci sono tutti delle aspettative. Ed è bellissimo come queste aspettative si misurino con il tempo. Allora, intanto, prima di tutto, volevo dire quanto sia formale il regista. Eviterò di ripetere il nome, visto che mi esce male. Allora, già dalle prime scene si capisce subito la tematica. Adesso mi sono scritto giusto due appunti, perché essendo Old mi dimentico anche la roba. E poi questi qui me li sono scritti dieci minuti fa, perché ho ripensato al film e che ho finito di vedere pochi minuti fa. Ho detto, ma cavoli, ma quanta roba! E mi sono scritto giù due robe. Allora, prima scena. Prima, tra le prime scene. La famigliola che sta andando in vacanza. E poi scopriremo tutte le dinamiche della famiglia. In due minuti, in due minuti, abbiamo un'antecipazione del film. E il bambino dice, oh, non arriviamo mai. Oh, sti cinque minuti, a me ne sembrano molti di più. E lui dice, quando posso fare le versioni? E il padre gli dice, no, sei troppo piccolo, devi diventare grande. Quindi c'è già il doversi confrontare con il tempo che passa. La madre sente la figlia cantare e dice, ah, non vedo l'ora di sentirti quando sarai grande. E lei dice, no, adesso mi hai tolto la piscina e non riesco più a cantare. Il tempo che passa. È già l'ossessione di questo film, già dalla prima scena. È bellissimo. Io vi invito, se l'avete visto, addirittura a rivederlo. Perché secondo me troviamo delle robe incredibili. Allora, la madre, che è la saggia del film, dice ai ragazzi, non pensate a questo tempo che non passa mai. Pensate a godervi il momento, al presente. Infatti è un film che parla sempre della possibilità di non avere un futuro, perché il tempo va velocissimo e invece dicono, cerchiamo di concentrarci sul presente. Il vivere non è le aspettative del futuro, il vivere è il presente. Tant'è che il personaggio maschile è un assicuratore e pensa al futuro. E guarda caso la moglie pensa al passato perché è una curatrice di un museo. Quindi abbiamo due personaggi che sono proiettati, uno in avanti e uno all'indietro. E i bambini che sono al centro, che sono quelli a cui invitano di pensare al presente. E saranno proprio loro gli unici che si salveranno. Ed è per questo che secondo me è geniale, è costruito benissimo questo film. Perché già dall'inizio, una sorta di ripetizione esensteiniana, danno degli elementi che ti consentono di decifrare la chiave di lettura di questo film. Non sta tanto nell'horror o negli elementi horror o di mistero o di fantascienza, che ci sono, ma non vengono neanche tanto spiegati, per esempio. Cioè, sì, così, tu devi starci al gioco. Tu stai al gioco e vai in quest'isola e ci vai con loro. Già dalla prima scena, loro vengono accolti nel resort con i cocktail. Ah, questi sono i cocktail studiati per voi. Cioè, cocktail specifici per quelle persone che poi scopriremo più avanti, no? Essere tutte persone con delle patologie, perché queste persone sono messe in quest'isola dove il tempo passa molto veloce per vedere in poco tempo l'effetto di alcuni farmaci che vengono somministrati all'arrivo dei pazienti e per far scomparire, i danni collaterali fanno scomparire tutta la famiglia. Quindi c'è una persona che ha una patologia, chiamano tutta la famiglia, il gruppo familiare, lo proiettano lì e lui mi dice, ma perché lo fanno? Perché dietro c'è una casa farmaceutica. Allora, il fatto che questo film sia uscito adesso su una piattaforma a un anno che siamo usciti dalla pandemia, e parli di case farmaceutiche che non hanno tempo di testare i farmaci, dovevano fare tutto di corsa e sono disposte ad accettare dei danni collaterali che sono fondamentalmente vittime, ma in generale che ammazzi comunque la gente, perché le ammazza e fa andare più veloce per vedere l'evolversi della malattia. Loro sono tutti fieri, scopriamo che sono tutti fieri di fare questo, perché dice, noi salviamo un sacco di vite, però di fatto stanno ammazzando della gente. Allora, in questo periodo post-pandemico, secondo me è un film del genere, è geniale, è geniale, è stato fatto addirittura durante il periodo pandemico, e adesso a vederlo a un anno di distanza, secondo me non è che è invecchiato bene, di più, è come il vino. Cioè un anno fa sto film poteva avere un senso, adesso secondo me ha ancora più senso. Cioè è bellissimo, vi invito, se l'avete visto al cinema, a andarlo a rivedere adesso. E veramente mi ha regalato molto dal punto di vista di sensazione. Perché? Perché questi qui vengono trasportati in questa spiaggia chiusa, chiusa da una sorta di canyon attraverso il quale non possono passare, perché se no svingono come se avessero uno sbalzo pressorio. E sono intrappolati in questa realtà, in questa bolla, bolla pandemica fondamentalmente, non possono uscire e su di loro vengono testati le cure, ma i vaccini, possiamo dire, che ancora non possono essere stati testati o che richiedono molto tempo. Quindi tutta una corsa contro il tempo, è bellissimo. E tutto questo fatto con una regia magistrale. Dopo, adesso ci arriviamo, ma già il fatto, no, che il bambino è la prima cosa che nota, che mette i piedi nell'acqua e vede che ci sono i pesci, e invece quando è sulla spiaggia vede che non ci sono i pesci. Il fatto che i bambini sulla spiaggia appena arrivati comincino a giocare e il gioco che fanno è tipo le belle statuine che apparellano, che si fermano così e sembrano fermare il tempo. I bambini sono molto sul presente, non pensano al futuro, pensano al presente, quindi sono scherzosi. Invece gli adulti sono lì tutti a voler cercare di astrarci dal tempo che corre e andare in una realtà dove il tempo non esiste. Invece il corre più veloce. Alla prima scena c'è tutto lo scheduling sulla parete dell'albergo. Cioè, veramente, veramente, ogni inquadratura non buttata su, pensata, costruita, composta, con la cura con cui si potrebbe fare un fumetto. Adesso non conosco molto bene la corrispondenza tra film e fumetto, perché il fumetto me lo sono perso, non sapevo della sua esistenza. Forse lo recupero, mi piace leggere i fumetti. Però veramente quest'opera è un'opera visiva. Bellissima, bellissima. La composizione dei quadri è qui. E poi è un film povero, cioè è fatto con nulla. 18 milioni fa veramente, ha preso un gruppo di bravi attori e li ha messi su una spiaggia a interagire con il tempo che passa. Allora, guardiamo gli appunti che mi sono preso per dirvi... Ah, il fumetto. Il fumetto si chiama Castelli di Sabbia. Castelli di Sabbia perché? Perché il castello, il castello è bellissimo, c'è anche il titolo. Il castello di Sabbia, i castelli sono delle roccaforti, no? Che servono di difesa. E noi vediamo ancora i castelli di centinaia e centinaia di anni fa. ed è figo perché quando te vedi un castello vero vedi un qualcosa che ti comunica il resistere nel tempo. Se tu vedi un castello di Sabbia, è quasi uno simoro, no? È una roba che alla prima onda si dissolve. Quindi dire già Castello di Sabbia secondo me è di una poesia che cacchio so... Cioè, io spesso i volitieri mi lascio tirare dentro da tutte le paranoie dei film Marvel, DC, cose del genere. Mi basta guardare un film di Shyamalan che costa due lire e mi ha fatto come cacchio si deve e la mia testa si risveglia proprio i neuroni mi fanno un sacco di suggerimenti, un sacco di robe. Bello, bello, bello. Cinema. Cinema. Andiamo avanti a vedere cosa... Ah, ok. I personaggi costruiti, sì, molto monodimensionali. Ma perché? Perché ogni personaggio ha l'ossessione. Adesso volevo farvi vedere giusto l'ossessione del medico. No? Cioè, abbiamo il personaggio del medico. Il medico è il capo, il più intelligente del gruppo e col tempo viene a soffrire di demenza. Quindi perde la cosa a cui tenera di più. Oppure su cui aveva costruito la sua identità. la moglie del medico. Ultrafiga. Diventa un mostro tutto distorto. Bellissimo. La scena di lei che si trasforma in mostro perché le si spezzano le osse e le si risaldano tutte storte e alla fine con un po' di convulsioni, di dolore. Quella lì è una scena da storia del cinema. Io penso uno dei mostri più belli degli ultimi anni insieme al Pale Man del labirinto del fauno. Praticamente lei ha una carenza di calcio, le si rompono le ossa, man mano che va lì le viene la gobba, si storce, vuole tirare e si spacca il braccio comincia a rotolarsi dal dolore e si spacca anche l'altro braccio e intanto queste braccia si saldano perché il tempo va più veloce e quindi si salda storta alla fine si sbatte dal dolore e continua a rompersi e a saldarsi e alla fine diventa una roba tipo il mostro della cosa alla fine quando ci sono tutti gli animali che viene bruciato è una roba bellissima storia del cinema secondo me e non è un film horror per me almeno io non lo trovo un film horror un film drammatico sulla condizione umana sulla condizione umana e il valore del presente i due personaggi diciamo i genitori lui pensa al futuro lei è passato ma c'è qualcosa che li corrode e cos'è? che lei ha un tumore però cos'è che la rode dentro? è che lei ha anche un segreto lei ha tenuto nascosto alla figlia alla famiglia al marito che aveva una relazione con un altro e questa cosa dentro la corrode come fosse un tumore e quando arriva su quest'isola questo tumore cresce 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 come si stava inasprendo ancora di più il loro rapporto alla fine proprio grazie al tempo che scorre velocemente riescono ad operarla e a estrarle e a estrarle sì quella scena è un po' difficile da accettare perché ti dici non è non è ultra verosimile ci sono delle cose che a volte forse non tornano ma uno ci deve stare uno ci deve stare deve regalare a questo film la possibilità di farci toccare sospensione dell'incredulità ne ho già parlato altre volte tu stacci le tolgono sto tumore e man mano che glielo tolgono sto tumore continua a crescere e la cicatrice si richiude subito e quando lei si è tolta il tumore nonostante il tempo è passato lei è migliorata lei si sente meglio e quindi riesce a dire anche al marito del rapporto il loro rapporto migliora e col passare del tempo loro si vedono una cosa noi riusciamo a vedere che loro riescono a invecchiare insieme una cosa bellissima era una coppia che non gli avrei dato non gli avrei dato tre giorni invece in questi tre giorni loro invecchiano insieme ed è bellissimo momenti molto molto romantici e toccanti lei perde un senso da un orecchio lui gli viene la cataratta quindi lei strilla lui va un po' a tentoni però la la vede cominciano ad arrivare le rughe bellissimo veramente bello senza tanti di aging digitali un make up fino un make up fino molto probabilmente un tiraggio pelle ma non si vedeva era proprio fatto bene cioè questo make up mai eccessivo era verosimile tu vedevi questi personaggi invecchiare e loro scoprivano che effettivamente loro imparavano l'importanza del presente e alla fine si trovano bene su quest'isola ad un certo punto lui non si ricorda neanche perché voleva andare via è ritrovato sua moglie del suo amore mi ha toccato molto quella cosa anche perché una coppia che cosa vuole o cosa può volere una coppia se non invecchiare insieme e dopo la felicità dei bambini i bambini oh madonna madonna i bambini i bambini crescono i bambini crescono la scena cioè tanto per dire no fratello e sorella dentro la tenda carrellata vediamo un orologio quindi simbolo del del tempo un orologio da bambino su un braccio peloso quindi è cioè soltanto in un'immagine un quadro una vignetta in una vignetta ti fa capire già il contesto del film e questo continuamente continuamente queste inquadrature ben studiate e io penso che è una gioia per gli occhi e per la testa l'unica cosa su cui Shyamalan ha avuto un po' di pietà è stato non far vedere il cane che moriva a questo punto perché inserirlo se non lo vuoi far vedere hai fatto vedere delle atrocità hai fatto vedere la bambina la più piccola del gruppo che si trova ad avere la possibilità di scalare questo canyon ma essendo ancora piccola mentalmente e incosciente prende lo scala sviene quando è in alto e si spiaccica di sotto mi fai vedere le peggio atrocità la gente che si potra fa la velocità della luce quella che partorisce poi il bambino diventa povere e non mi fai vedere il cane non ce la possono fare non ce la possono fare vabbè la presenza di Shyamalan del regista il regista ogni tanto fa i suoi cameo nei suoi film ma non sono cameo tra virgolette inutili come quelli di Hitchcock perché questo gruppo è un gruppo osservato dall'alto da questa casa farmaceutica la casa farmaceutica fa le sue cose Shyamalan Yan che è il regista del film e mette alla nostra attenzione questa cosa è proprio colui che deve da lontano guardare queste persone e il ragazzo dice guarda lassù c'è una telecamera ne sono sicuro e si vede il primo piano di Shyamalan Yan con la telecamera che guarda e sta guardando non solo i ragazzi ma guarda in macchina guarda noi altri per un attimo rompe la quarta parete Shyamalan sta guardando noi sta guardando di sotto quelli che invecchiano ma sta guardando anche noi secondo me si stava guardando noi noi vaccinati ci stava guardando per vedere cosa succede e sta cosa l'ha messa in pellicola in una maniera magistrale io quando mi ha guardato ho detto cazzo cazzo che rob proprio ho sentito avete in mente il videodrome quando c'è la mano che esce io ho sentito lo sguardo di Shyamalan che guardava me io guardavo quello che lui guardava e intanto lui guardava me è una roba metacinematografica a me ste robe mi fanno impazzire e poi non è molto cerebrale vi giuro non è come quei film tutti ultra mega cerebrali che devi stare lì a spremerti le meningi è tutto abbastanza semplice ma tutto al posto giusto battuta memorabile tra l'altro battuta memorabile questo film è pieno di bei momenti ma anche la scrittura proprio in sé è fighissima ad un certo punto i due fratelli si trovano cresciuti e lei dice lui chissà se anche gli adulti si sentono come noi cioè un po' bambini dentro e io è fighissimo perché prima mi ero impersonato con i genitori che invecchiavano insieme e poi dopo mi ritrovo bambino in corpo da adulto e allora si fanno questa domanda che è una domanda dai che bene o male ci facciamo tutti e e quindi secondo me questo film ha veramente tanta roba e ho e ho letto delle recensioni per vedere no io nel senso di solito io faccio parlo dei film soltanto quelli che mi piacciono e volevo vedere se questo film era piaciuto ad altre persone ad alcune persone è piaciuto molto ad altri ha fatto schifo effettivamente posso capire perché perché come film devi essere un po' disposto a entrare a parlare con Shyamalan se tu sei disposto a a regalargli del tuo lui regala molto a te se vuoi una roba coi coi bu con la trama completamente dritta tutto che deve ritornare deve essere tutto pipipipipipipipipipipi eh allora dopo potremmo dire che il finale può essere veloce tirato via secondo me era appropriato a quel film perché il film era questa una cosa vi voglio dire ho cominciato a guardare questo film l'ho finito adesso ma l'ho cominciato ieri notte che mia moglie era stanca e ha detto dormiva allora l'ho acceso e si è svegliata e ha cominciato a guardare anche lei i primi minuti del film ha detto che film è e io non te lo dico non ti voglio spoilerare niente e lei lo guardava non c'era niente di che ma il suo incedere quell'angoscia del quella strana angoscia e voglia di vivere che c'era allora chissà dov'è lo sentiva molto si permea ogni ogni inquadratura ogni scena tant'è che ha detto oh ma ti stai rendendo conto che tu adesso sono ormai venti minuti mezz'oretta che guardi sta roba non sai cos'è non è successo niente e non sta succedendo niente ma sta cosa ti tiene lì perché è appunto un'atmosfera che dopo quando si esplicita è godibilissima quindi basta poche chance volevo soltanto dirvi alcune mie impressioni ricordate sempre non faccio recensioni perché sono inutili però vi posso dire che ve lo ve lo consiglio assolutamente se non l'avete visto recuperatelo se l'avete visto riguardatelo veramente bello Amazon Prime ciao a tutti oh fate una roba iscrivetevi al canale perché ho diversi format che potrebbero essere interessanti uno è sulla storia del cinema e degli effetti speciali o storia del cinema in generale un altro è dove faccio vedere alcune fasi delle lavorazioni che faccio visto che lavoro nel campo del cinema quindi iscrivetevi al canale voglio vedere cosa succede se riesco ad arrivare mai a mille iscritti e niente spero vi sia piaciuto guardate tanto buon cinema ciao ciao ciao